Ancora ben trovati con il nuovo spazio news di Canale 3 Toscana, rubrica Posto Tg, stasera abbiamo con noi Pino Di Blasio, la nazione, ben trovato Pino. Ben trovati anche a voi, complimenti anche per l'allestimento, per i nuovi studi. Grazie, grazie mille. Allora Pino, tante le tematiche da commentare insieme, partiamo ovviamente dalla politica, un quadro che ancora è tutto in divenire, nonostante che ormai i giorni scorrono come sempre velocemente e si avvicina alla data in cui Siena dovrà scegliere il suo futuro sindaco. Ad oggi qual è l'idea che ti sei fatto e cosa secondo te si svilupperà? Secondo me l'idea che mi sono fatto è che la città è rimasta spaccata come era nel 2018 e come era anche nel 2013 ovviamente, anzi sempre più parcellizzata, per usare termini politici troppo cruenti e balcanizzate, ci sono varie fazioni che ovviamente si scontrano e hanno peso soprattutto quelli che sono convinti che bastano 200 voti per spostare la cosa, però piuttosto di avere due grandi blocchi elettorali che si dividono 200 voti, adesso abbiamo tanti piccoli blocchi da 200 o 2000 voti che alla fine si danno a tagli, alla fine se pesano tutti i piccoli in realtà non pesa nessuno, quindi possiamo riassumere questo stato balcanizzato dei partiti? Che i due grandi schieramenti sono in un modo o nell'altro fratturati al loro interno, il centro-sinistro ovviamente c'è il PD che impreda una confusione, quasi a un cupio dissolvi insomma che sta totalmente autodissolvendosi, farà le primarie di coalizione, vedremo chi parteciperà a queste primarie di coalizione, però non sembra che abbia la forza di esprimere un candidato che voglia fare il sindaco, un nuovo sindaco della città, non so quali sono le intenzioni, ma lo vedo molto assente dal dibattito e concentrato sulle storie, il centro-destra è spaccato tra parte civica e partiti tradizionali, ma anche i partiti tradizionali sono spaccati al loro interno, un conto dei fratelli d'Italia, di Michelotti, Tucci che è molto granitico rispetto con un leader che è Michelotti ovviamente, che è l'onorevole Michelotti e Forza Italia e Lega che ovviamente essendo residuali come peso elettorale, la Lega è un po' più unita, Forza Italia invece come sappiamo porta dai concetti abbastanza estemporanei di queste storie, dall'altra parte abbiamo le liste civiche che fanno riferimento a quello che noi chiamiamo Ricciarello Magico, che in qualche modo tentano di avere un loro candidato e un peso, si sono coalizzati attorno a De Mossi, loro si arrogano di avere il 18-20%, ma anche se avessero il 10% sarebbe il secondo schieramento del centro-destra, quindi ovviamente devi parlarci, poi abbiamo Pacciani dall'altra parte, le variabili Pacciani e Montomoli, Pacciani continua in perterrito a fare la sua campagna, la sua corsa, pensa di trovare gli scontenti del centro-sinistra in ogni caso, però non è un compito molto facile, Montomoli spera ancora che il centro-destra vada dalla sua parte, ma si tratta di vedere, quindi possiamo avere uno scenario con due candidati, ma come penso io più probabilmente con cinque candidati al primo turno e poi alla fine chi è più forte poi alla fine andrà a combattere, ma da questo scenario il più grande assente penso che sia il PD in ogni caso. Allora, dallo scenario politico parliamo invece dello scenario economico, noi abbiamo in queste prime edizioni del telegiornale cercato di raccontare un po' i dati dell'economia dell'anno che si è appena chiuso, proprio ieri sera abbiamo guardato insieme al Presidente di Camera di Commercio i dati delle aziende sienesi del 2022, un dato export pazzesco, hai scritto diversi pezzi nel tuo giornale, è andato ovviamente molto bene nel settore biomedicale, il vino ci ha confermato una certezza del nostro territorio. La fotografia economica, il polso economico che ti senti di descrivere dell'anno appena chiuso, che fotografia è del nostro territorio Pino? Secondo me è una fotografia di un territorio che si è finalmente reso conto che ha delle potenzialità spettacolari da dover sfruttare ora o mai più, questo è il momento della definitiva evoluzione economica del territorio, come? Gli asset da giocare, le carte da giocare sono tantissime, lasciamo perdere il vantaggio di avere un Monte dei Paschi risanato, perché è fondamentale, anche se molto dietetico, come dire, avendo ridotto personale e probabilmente con un po' di sportelli da dover cancellare, però il fatto di aver conservato una banca e un protagonista del risico finanziario nel territorio non era né scontato e né così neutro come risultato, è un risultato da cui partire anche se diciamo che finalmente il territorio si è reso conto che è totalmente de Montepaschizzato, non è più un one company town, un territorio basato solo su questa storia, ma è un territorio che ha altre carte da giocare. Di le scienze della vita è meglio non parlarne perché ne abbiamo parlato talmente tanto, ma quella è sicuramente un'altra ricchezza da vedere. Si tratta solo di aspettare e di vedere che le cose si sedimentino perché arrivino a diventare produzione e sviluppo vero e proprio. Però quello che mi piace notare è l'effervescenza dei territori, non solo della città, deve recuperare l'effervescenza perché vedo una città ancora piegata in se stessa e vittima dei suoi male atavici, che io chiamo le rendite di deposizione che sono veramente un male atavico, ma il territorio è effervescente. Tu guarda solo il caso di San Cacciano dei Bagni con il trovamento degli etruschi, scusa, dei reperti del Santoro del Bagno Grande. Se tu riesci a catalizzare, a tesorizzare una scoperta di questo tipo, ne guadagnano tutti. Poi la cosa importante è anche come vedi l'effervescenza della Valdessa, tu ne hai parlato prima del distretto del camper, del distretto vinicolo, ovviamente ne parliamo come inteso, come filiera generale di queste storie. In più non dimenticarti la cultura e l'arte. Noi abbiamo riconfermato una leadership nel soft power in Italia. I soft power sono istruzione e cultura e arte. essendo quarti al livello tra le province come qualità della vita, tutto merito è dei soft power, quindi di tutte le possibilità di andare a vedere Montalcino, San Gimignano. Questi territori avranno, secondo me, spero, un 2023 molto esaltante dal punto di vista economico e spero tornino anche a catalizzare più che abitanti attività e funzioni, perché sono quelle che poi riportano gli abitanti. Cioè quello di San Casciano dei Bagni, per fare un esempio che è quello più recente, sicuramente i reperti porteranno molti turisti e molti interessi, però se i turisti vanno a San Casciano dei Bagni e trovano la pasticceria chiusa o la frutta e verdura chiusa, è un problema. Sarebbe meglio se continuassero anche a lavorare in questa questione. Siccome a San Gimignano, a San Gimignano ci sono dei progetti di sviluppo come quello dell'ex carcere San Domenico, che è eccezionale, vanno sicuramente incentivati e va portata anche una sorta di fattore moltiplicatore di ricchezza che è notevole. Ma ci sono dei territori anche marginali, vecchi territori marginali, pensa a Radicondoli. Radicondoli è un territorio, è un comune virtuoso, non ha più un mutuo da pagare, grazie alla geotermia. Se riuscissimo a superare anche un altro male di questo territorio che è la sindrome NIMBI, quella di dire no a tutto e tutte le cose nuove, come se riuscissero a superare la Colle Valdessa con la storia delle piccole centrali idroelettriche, sarebbe un vantaggio, la stessa cosa le geotermie sull'Amiata. C'è l'esempio di Radicondoli che per me è virtuoso in tutti i sensi, un comune che era condannato all'oblio, perché Radicondoli come sai è totalmente marginale, ha pochi abitanti, c'è un sindaco effervescente in grado di tirare fuori il meglio. Io a Radicondoli, adesso ci vado spesso in pizzeria, perché là c'è una pizzeria, però è ottimo come cosa queste storie. Se tu le vedi riesci a vedere un ritorno di uno spirito di comunità, che è la ricchezza dei nostri territori e da là parti per esaltare le grandi potenzialità che hai. Io spero che sia così, non è detto che può darsi anche che ci sarà un anno pesante se ti arriva qualche altra cosa tra capo e collo, quindi devi farci i conti, però tu hai molte più carte di altri territori e siccome è sempre una competizione dei territori, per arrivare a Dama, per arrivare a crescere in un modo intelligente. Nella prima edizione di questa rubrica abbiamo avuto ospite il neoretto dell'Università di Siena e con lui abbiamo commentato degli importanti traguardi economici che l'Università di Siena ha saputo guadagnarsi e che adesso sono ovviamente delle sfide di investimento. Partendo da quelle, partendo dal tema ovviamente del PNRR, partendo dal Biotecnopolo. A Siena arriveranno tanti soldi, Pino. Dobbiamo uscire da questa, adesso non so che cosa ha detto il Rettore, mi dispiace non l'ho sentito, ma la cosa che vorrei dire è che se ci focalizziamo solo sui soldi che arriveranno a Siena, perdiamo di vista a che cosa servono quei soldi. Anche sul Biotecnopolo la stessa storia. A me, adesso, benissimo, abbiamo incassato 340 milioni di euro per l'abbandi pandemico e 16 milioni di euro all'anno per la fondazione Biotecnopolo. Però sono numeri che non dicono nulla. Tu hai incassato, teoricamente hai preso 220 miliardi dal PNRR, ma se non li metti a terra e non ci trovi fuori qualcosa di utile, avere tutti questi soldi non serve assolutamente a nulla. Quindi va bene aver festeggiato nel 2022 di aver ritenuto tutti quei 60 milioni di fondi di ricerca dal PNRR per otto progetti di ricerca. In 2023 deve essere la fase in cui dico, con quei 60 milioni ci ho scoperto, che ti posso dire, una nuova forma per fermare l'estinzione del panda con un dito solo da quella parte là. Cioè voglio risultare di ricerca efficaci, voglio che sia creata una sorta di attività di ricerca che porti veramente sviluppo. Non mi basta che noi ci ho 60 milioni da spendere per le mie ricerche, che sia un hub. Voglio che arrivi qua a un talento o una serie di talenti eccezionali che ti porti valore aggiunto. I soldi in sé per sé non bastano, l'abbiamo dimostrato anche con la storia. Facendo tutte le ricerche, noi in 15 anni questa provincia ha dilapidato 1.520 milioni di euro della fondazione Monte dei Paschi. Sai quanti sono 1.520 milioni di euro? Cioè è quasi una manovra di un paese e tu sei un territorio di 200 mila abitanti. Sei riuscito a dilapidare questa storia senza costruire niente di concreto, ma anche una stupidaggine. Potevamo avere una cittadella sportiva eccezionale e non l'abbiamo fatta. Colpa anche di chi ha progettato delle cose di sviluppo di questa storia. Quindi i soldi, avere una valanga di soldi è fuorviante. Bene, abbiamo festeggiato il fatto di averli ottenuti. Adesso valorizziamoli, facciamoli fruttare e soprattutto non trasformiamoli in una rendita che non porta a nulla di questa storia. Ripeto, sono stato il primo a osannare a enfatizzare la roba del tenuto su tutti questi finanziamenti governativi e statali sia per la ricerca dell'università che per le scienze della vita. Il territorio ha raggiunto questo obiettivo, adesso deve ovviamente vestirli. Adesso devi valorizzare, devi sfruttare, devi dimostrare che aver finanziato 10 milioni della ricerca sul lago alimentare ti deve portare qualcosa che ti fa fare salto di qualità, non solo convegni che ovviamente servono, ma non solo incontri tra cervello e roba del genere, ma qualcosa di progetti che abbia senso. Io questo chiedo, io chiedo di dare un senso a tutti questi soldi a questo punto, sia per le scienze della vita che per i progetti di ricerca dell'università, che per tutte le altre cose poi, non mi credo. Avere soldi può anche essere controproducente, come ha dimostrato il nostro recente passato. L'ultima battuta, parliamo invece di editoria, visto che noi abbiamo festeggiato i nostri nuovi studi, questo nuovo corso, te sei un uomo di grandissima esperienza. Voglio dire che sono vecchio. No, non voglio dire che sei vecchio. Hai però un capodonna e questo è molto bello, salutiamo tra l'altro la direttrice Agnese Pini, direttrice del gruppo La Nazione. Quali sono gli obiettivi che vi siete dati per questo anno? Ieri c'è stato un incontro molto importante con l'azienda in cui abbiamo programmato, come dire, le vicende sindacali e anche un po' strategiche del prossimo anno. L'editoria di carta deve in qualche modo ovviamente sublimarsi e sempre più integarsi con la rete, ma anche con le nuove forme televisive. In effetti, pensiamo, ci sono state diverse strategie di questa storia. Però l'editoria, soprattutto quella di carta, soffre di una crisi epocale che va corretta a livello anche politico. Io sono convinto che tutte le democrazie, come dimostrano anche i casi Bolsonaro e Trump, gli assalti a Capitolilla e a Brasilia, le democrazie per continuare a vivere hanno bisogno di una manutenzione straordinaria costante. E uno dei diritti che rende forte una democrazia è il diritto all'informazione fresca, trasparente. Ovviamente è un'utopia perché tutta l'informazione sono viziatta dalla fonte, dalle sorgenti di informazioni. Applicandola al piccolo, in uno stato democratico solido, l'informazione di carta dei giornali europei generi rappresenta una fonte di approvvigionamento di conoscenze notevoli. Perché secondo me, lo so che pubblicità prodomomea, ma anche perché poi francamente personalmente non è che mi interessi molto il futuro. Ma io sono convinto che chi legga un giornale, qualunque esso sia, sappia più cose di chi non lo legge. Su questo siamo d'accordo. Ma anche chi legge un libro sa più cose di questa storia. Come racconta una frase di un grande, chi non legge vive solo la sua vita, chi legge libri vive le vite di tutti quelli che le legge. E già questa è una ricchezza mostruosa. Chi legge un giornale può trovarci quello che gli interessa, un'informazione che gli serve, ma può trovare anche degli spunti di storie che in ogni caso non trova. Se non riusciamo a codificare un diritto all'informazione che dia l'informazione per tutti, io non so come succede, non sono un mago dell'informazione, non voglio imporre la pravda oppure comprare un giornale come il quotidiano del popolo che compravano 100 milioni di cinesi, ma secondo me non lo leggeva nessuno in ogni caso. Non dobbiamo arrivare a questo, ma dobbiamo arrivare al fatto che la gente deve volersi informare, deve avere fame di informazione, così come deve avere voglia di votare. Guarda, un altro dei diritti che tra pareti si deve trasformarsi quasi in dovere è il voto. Tu non puoi più eleggere persone, i tuoi rappresentanti che va con il 50% degli elettori degli aventi diritto. È un vulnus notevole. Macron è stato eletto dal 23% dei francesi, non è la dittatura della minoranza, è la scelta della minoranza che decide anche su quell'altra storia delle cose. Quindi diritto all'informazione, diritto di voto e anche diritto alla salute sono tre diritti che vanno manutenuti e in qualche modo trasformati per rendere la democrazia più forte. E quella l'informazione è un diritto che deve coniugarsi anche purtroppo con imprese editoriali, con aziende e che ha a che fare anche con posti di lavoro. Quindi informarsi fa bene a un sacco di cose insomma in ogni caso, anche a se stessi. Pino ti ringrazio per la tua presenza, spero di riaverti presto qui con noi, grazie ovviamente a voi per l'attenzione. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi. Questa sera, come ogni mercoledì, torna l'appuntamento di In Politica a cura di Aldo Tani e a seguire ovviamente i programmi del nostro palinzesto. Le informazioni durante la giornata in tutti i nostri profili social sulla nostra web tv. Appuntamento con l'informazione invece domani alle 19.30. Vi aspetto.